Anche a Pordenone ha fatto tappa il gazebo dell'Istat. In piazza 20 Settembre, personale qualificato ha fornito informazioni sulla compilazione del questionario del quindicesimo censimento generale della popolazione. L'invito dell'assessore al coordinamento civico del comune di Pordenone, Flavio Moro, a rispondere per tempo ai quesiti. Siamo qua per dire ancora una volta e sancire ancora una volta l'importanza della compilazione del questionario. Il fatto stesso che l'Istat giri per tutta l'Italia con questi gazebi promozionali è una cosa molto importante. C'è da dire che entro il 20 novembre è opportuno attivarsi per compilare il questionario. Siccome c'è il rischio che la gente lo lasci lì, i cittadini lo lasciano lì e poi magari si accorgano all'ultimo minuto, intesando poi gli uffici che noi abbiamo predisposto già dal 9 ottobre, chiediamo ai cittadini di attivarsi da subito in questi giorni. Inoltre, l'abbiamo verificato anche con chi l'ha già fatto via web, la compilazione via web è molto più facilitata perché guida il cittadino nella compilazione e per cui evita l'effettuare degli errori nella compilazione. E questo credo sia anche importante e crediamo sia opportuno procedere nella compilazione incentivando quella via web.